Presidente Barti, Assessore Leone, alte cariche della Regione della Sanità, Luca, io non ce l'ho con voi, non ce l'ho con voi in quanto tali ce l'ho con voi, in quanto avete consentito che ancora oggi da quell'ospedale di tutti i ricoverati in terapia intensiva sono usciti sono cadaveri e l'ultimo Antonio, Antonio che ha dovuto mendicare un tampone, mendicare un tampone, allora io da voi non vi do colpe e non pretendo chissà cosa, pretendo che non esca più nessuno con i piedi davanti da quella struttura, nessuno che è morto di Covid, pretendo da voi, che mandiate a casa chi causa queste cose, che permette che servano le raccomandazioni anche per un tampone e che quando poi si riesce ad ottenere è già troppo tardi. a quanti ne sono morti? 8, 9, 10, 11. Antonio, l'amico di tutti, anche vostro, anche vostro, anche vostro. Trovate colpevole, altrimenti andate a casa. Ve lo chiede il popolo lucano col cuore in mano, dice, no, lo chiede Angelo Calza, e si, Angelo Calza, il pagliaccio quello che fa ridere. Sappiate che quando ride un pagliaccio la colpa è vostra, è vostra.